ciao ragazzi e ben ritrovati sul canale questa sera in garage si rivedranno delle belle ci sarà penso da ridere non lo so vedremo un po quindi adesso vi racconto un po tutto quello che cercherò di fare allora in primis voglio misurare il rapporto di compressione e lo squish sul motore attuale che ho appena smontato dallo scooter quindi questa sera lavorerò principalmente su quello e poi in teoria a fine video vi mostrerò quello nuovo e insomma tutte le cose che andremo poi fare nel secondo episodio diciamo così a parte il primo mezzo primo in cui ho smontato tutto in cui vi avevo raccontato quello che sarà che dovrebbe succedere nel corso di quest'anno quindi come vi dicevo lavoreremo su questo qua che indico perché ho già montato sulla morsa in in bolla perfetta quindi pronto per tutte le misurazioni anche questa sera ci sarà la doppia telecamera cercherò di fare con questa le riprese un po più vicine un po più particolari e con la gopro la terrò dall'alto insomma così da mostrare un generale di quello che sta succedendo comunque per questa sera mi sono attrezzato con dello stagno da un millimetro che utilizzerò ovviamente per misurare lo squish che non ne ho idea di che valori salteranno fuori perché se avete visto tutta la serie della costruzione restauro dello zip non ho fatto nessuna misurazione ho chiuso e via che sono andate in pista e poi in casa non ho trovato altro a parte questa siringa da 5 ml dovrebbe cioè non bastano i 5 ml ma insomma dovrei riuscire fare una misurazione abbastanza corretta insomma cercherò di fare del mio meglio magari la ripeto due volte così sono sicuro eventualmente 3 e faccio la media questo video sarà un mezzo tutorial diciamo perché so bene che su youtube ci sono un sacco di altri video dove si mostra come misurare lo squish e rapporto di compressione come modificarli e quant'altro io comunque voglio portarlo lo stesso sul mio canale e spero che in ogni caso possa essere d'aiuto se voi avete qualche consiglio scrivetemelo pure nei commenti che sono super super ben accetti e direi che altro non c'è da dire quindi adesso riposiziono le videocamere e partiamo subito ottimo ragazzi allora ci siamo il nostro motore è sulla morsa bello stretto direi che non ci rimane che partire smontando la testa eccoci qua ragazzi allora le guarnizioni per fortuna non si sono rotte sembra tutto ok ovviamente le sostituirò procediamo mettendo un po di grasso poi vado a prendere un baker con dell'alcol e si misura ok adesso cerco di pulirlo un attimo e poi direi che siamo perfetti ottimale allora adesso chiudiamo la testa la stringo a 13 newton metri perfetto alcol nel baker siringhina tattichissima la spolgo ovviamente dalle bollecine magari il nostro sopracilindro ok sono perfettamente a 5 adesso super concentrazione e si procede ecco l'ultima quindi 5 e 3 quindi 8 in totale meno meno 1 dunque 7 gli hanno messi se non erro dunque allora no in realtà mi sono un attimo sbagliato volume filetto cantina 24 ml quindi da 7 46 4,6 più 69 e 93 uguale diviso 4,6 in diretta 16,20 raga è altissimissimo mamma mia se ho fatto i calcoli corretti direi che è bello alto rapporto di 16,2 me lo segno ok allora adesso estraggo e provo effettuare un'altra misurazione ok allora ok 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 a sto giro siamo arrivati 7,1 perché è poco più di 2 dunque questo è il risultato 15,87 siamo passati a 16,2 a 15,87 con un ml in più 4,6 4,7 ragazzi è una storia assurda io direi che a questo punto con calma mi faccio un'altra misurazione e poi ve la mostro ora facciamo la media e procediamo con lo squish allora ragazzacci c'è un bel problema si è spannato un prigioniero questo è il risultato di come sono riuscito a togliere la vita e non la trovo neanche più perché mi sono incazzato a bestia eccola qua così ho risolto ho tagliato a metà col flescibile e poi con la cagna piano piano ho fatto saltare via ho già posizionato un filo di stagno per farlo squish vediamo di provare una volta con tre con tre dadi tanto sarebbe stato solo così da vedere quant'era adesso comunque è vero la media anche l'ultima volta mi è saltato fuori 4,6 quindi 16,20 e la media salta fuori 16,09 quindi insomma non è granché anzi si può fare molto meglio adesso dai non perdiamo altro tempo e procediamo con lo squish che sono già le 11 e un quarto di sera via che si procede comunque questo è il prigioniero spannato fantastico ho già messo il mio stagno da un millimetro andiamo un po' cosa salta fuori comunque poi si cambia a prigioniero eh però che palle cioè metto mano al motore e si spacca sembra quasi fatto apposta che io non debba mettere mano al motore allora vado su e giù un paio di volte andiamo un po' secondo me non abbiamo una borsa di squish ah raga non abbiamo nulla di squish abbiamo più di un millimetro perché questo rimane a uno eh si speciale purtroppo non ho con me lo stagno da un millimetro e mezzo se no avrei provato con quello che sicuramente quello almeno spero lo tocchi cioè lo schiacci un po' meno da avere un millimetro e due cavolo se no di più è per quello che mi passavano tutti in pista eccoci qua ragazzi tornati in garage è la seconda sera e sono riuscito a misurare lo squish questa sera con lo stagno da un millimetro e mezzo sono riuscito a schiacciarlo non so esattamente il motivo del perché non si è schiacciato neanche un po' quello da un millimetro perché il risultato è circa 0,95 non so dirvelo assolutamente comunque il fatto sta che dalla parte dove c'ho il prigioniero rotto è più verso l'uno mentre dalla parte dove ci sono i due prigionieri ok e quindi stretti correttamente insomma in piano siamo più verso lo 0,90 direi quindi che sul motore vecchio è tutto ok non c'è più nient'altro da fare e ovviamente riprenderò i lavori di quello nuovo tutte le lavorazioni al carter e il montaggio completo che a proposito del motore tra virgolette nuovo ancora non vi ho spiegato bene da dove arriva bene mi sono sentito con Andrea Guth Garage che mi ha dato intanto qualche consiglio e poi mi ha detto ma sai che io ho questo carter qui così è ad aria non hai problemi con la pompa dell'acqua eviti eventualmente di andare a rovinare il tuo che è un Zip SP originale cioè motore Zip SP originale aveva anche dei rapporti malossi e alla fine insomma dopo qualche chiacchiera ho deciso di prenderlo perché non potevo farmi scappare questa occasione quindi intanto Andrea se stai guardando questo video ti ringrazio un sacco perché adesso ci sarà un bel lavoro da fare e spero anzi dai sono abbastanza sicuro che verrà fuori qualcosa di bello potente insomma per quanto possibile e quanto può dare questo motore qua adesso senza perderci troppo in chiacchiere andiamo direttamente sul banco da lavoro che vi mostro il motore da vicino come messo e bene o male dove andrò a fare sti benedetti lavori ok ragazzi eccoci qua con il nostro super blocco nuovo ma usato e adesso vi mostro insomma velocemente il quanto partiamo che è un classico blocco piaggio semilavorato e ad aria quindi abbiamo qui l'entrata per il raccordo che esce dal motore e invece qui nel carter più grande abbiamo il tappo cioè il blocco senza il foro dove solitamente ci fa la girante ma quindi qui non gli metteremo la girante ma la pompa dell'acqua elettrica in questo modo qui il tutto insomma sarà più semplice anziché mettere un tappo evitare che perda e quant'altro quindi così sono super sicuro poi i rapporti abbiamo i rapporti del modello nuovo quindi quelli con il carter della trasmissione che va ad innestarsi col cuscinetto al rapporto primario dunque meno trazione meno sollecitazioni e tutto più sicuro e affidabile diciamo così comprerò il copri rapporti quello della Polini consigliato da Andrea in quanto ha lo ring e non c'è più bisogno di mettere la pasta rossa che è una bella struma per quanto riguarda la trasmissione questa è plug and play quindi una volta chiuso il motore rimonterò tutto quello che avevo prima a parte il correttore di coppia che come vi dicevo ho preso quello della Malossi per quanto riguarda il carter è già stato semilavorato in questo punto in questo punto ed è tutto ok comunque io andrò a rifinire perfezionare insomma migliorare quanto più possibile stessa cosa in questo qua come vedete c'è già un po' di lavorazione pure qui insomma non è bellissimo ma si può rimediare e fare molto meglio quindi vedremo di fare quanto meglio possibile il carter è bello pulito non ha niente di rotto niente di strano direi quindi che è tutto ragazzi e andiamo verso la conclusione del video in modo super rapido perché ormai vi ho mostrato e detto tutto quanto ok ragazzi eccoci quindi verso la conclusione dunque le uniche cose che dovrò andare a comprare in quanto i rapporti scegli ho già perfetti insomma per questa elaborazione qua è il copri rapporti che come vi dicevo prenderò quello della Polini e il carter della trasmissione che mi servirà quello nuovo appunto con il suo cuscinetto in quanto quello vecchio non avrebbe senso montarlo poi effettivamente non so neanche se monta ovviamente poi per quanto riguarda il gruppo termico albero motore cuscinetti e parole nuove che insomma per quello che costano direi che è il caso di sostituirli anche se con l'altro ci ho fatto circa 6 ore e guarnizioni del gruppo termico nuove insomma in fine di tutto poi dopo aver fatto tutti questi bei lavoretti squish e rapporto di compressione ad hoc e direi che ci siamo non mi rimane altro che montare tutto sullo zip e continuare con il resto perché ci sarà pompa dell'acqua insomma rivisitazione di tutto l'impianto di raffreddamento e basta direi direi quindi di non dilungarci troppo come sempre io vi ringrazio per la visione vi invito a lasciare un bel like e ad iscrivervi al canale per supportarmi e permettermi di continuare a produrre questi contenuti che io mi diverto un sacco a farli e ci vediamo al prossimo video dal garage di Diego è tutto ciao a tutti ciao a tutti